In questo nuovo video vi porto due nuove stampe e una ve la regalo Vediamo fin da subito come sono le fotografie, poi passiamo al sito web e infine vi spiego come sarà il giveaway Iniziamo con la prima fotografia, sicuramente l'avrete vista in uno dei miei video tutorial se non l'avete fatto vi lascio la schedina qua in alto e questa è l'alba al castelboccale Questa tipologia di stampa è stata fatta su una carta fotografica della Kodak in particolar modo la Kodak Metallic una carta che sicuramente ci consente di ottenere delle fotografie molto molto di impatto per quanto riguarda il colore Può piacere, non può piacere, sicuramente il tipo di supporto fotografico porta a numerosi riflessi a seconda della tipologia di luce che abbiamo all'interno della stanza Tuttavia è uno dei supporti più indicati per poter stampare le nostre fotografie che presentano differenze di colore assai accentuate Come ci consiglia il sito web, lo vedremo successivamente, questo tipo di carta fotografica è veramente adatta a fotografie in cui, ripeto, abbiamo delle differenze di colore accentuate o anche delle fotografie notturne dove gran parte della nostra foto sarà ovviamente più scura, leggermente sottoesposta ma abbiamo dei forti contrasti delle luci della città o per esempio anche di un tramonto abbastanza imponente Una particolarità di questo sito web è di poter stampare le fotografie in modalità test print cioè vi invieranno la fotografia ad un prezzo veramente ridotto con però ovviamente delle piccole filigrane dove c'è scritto photographic test print, non so se si riesce a vedere dal video in maniera tale che ovviamente la foto non potrà essere commercializzata o comunque esposta pagando un prezzo più basso è comunque una ottima, ottima strategia di marketing se così vogliamo chiamarla perché il sito ci consente di toccare con mano la nostra carta fotografica potremo vedere come verrà il risultato finale e quindi eventualmente comprare il risultato finale senza le filigrane quindi comprare effettivamente la stampa che vogliamo arriviamo però a parlare della stampa vera e proprio quella che vi regalerò quindi mettiamo da parte questa che ovviamente vedremo sul sito di Whitewall successivamente e questo è il pacchetto che chi vincerà il giveaway riceverà a casa così potete vedere anche con i vostri occhi come effettivamente l'azienda lavora dal punto di vista del packaging, della spedizione e cose di questo tipo ecco andiamo ad aprire il tutto, vediamo cosa c'è dentro troviamo una busta con una schiena, un dorso diciamo della busta appunto che è in cartone, questo ci impedisce di piegare la fotografia e di rovinarla durante il trasporto all'interno troviamo una piccola pellicola di plastica che viene posta sopra la nostra fotografia ma nella tale che magari durante il trasporto non vada a strusciare con la busta e quindi si rovini e poi abbiamo una foto bianca, non è bianca ma è questa questa è la foto che ho deciso di regalare a chi vincerà il giveaway quindi l'avrete sicuramente vista tra tutte quelle che avevo ho scelto questa perché mi piaceva di più ho detto vabbè, vedisco questa, tanto sicuramente vi farà piacere per quanto riguarda questa tipologia di stampa, una stampa fine art abbiamo usato, ho usato la carta Hany Mule è una carta particolarmente indicata per chi vuole raggiungere un risultato eccellente nelle proprie stampe una carta proprio da mostra fotografica ovviamente come tutte le carte fine art è un supporto, una carta cotone quindi ha una ottima, ottima, diciamo esposizione dei colori mantiene molto molto bene il dettaglio, la texture degli elementi presenti all'interno della fotografia è evidente e qui il ponte nell'esempio sembra quasi una stampa fatta su un supporto dipinto con acquerelli veramente quindi un qualcosa di eccellente se poi andiamo a vedere anche sul sito web e successivamente lo faremo sarà possibile scegliere tra quattro tipologie di carta Hany Mule per una stampa fine art quindi vedremo le varie differenze per quanto riguarda la stampa fine art ho scelto di inserire la cornice di un centimetro perché mi sembrava quella più indicata, più fine, più minimale però possiamo anche creare delle cornici un po' più ampie se volete appunto avere un passpartout nella vostra fotografia molto più accentuato eccoci qua sul sito di White Wall come vedete nella parte superiore abbiamo tutti i prodotti che questa azienda decide di fornire in particolare vediamo la stampa fotografica su supporto Kodak Metallic e poi passiamo alla Hany Mule, cioè la stampa fine art per quanto riguarda questa stampa vedete il prezzo è abbastanza abbordabile ci sono moltissime dimensioni, queste sono solo alcune perché ci sono molti altri formati che possiamo ottenere durante la fase di ordine quindi quando andiamo a caricare la fotografia e andiamo a scegliere le varie opzioni per stampare la foto come ci dice il sito web abbiamo una carta che sicuramente ci dà una grande brillantezza lo avete visto anche dal video grazie anche al suo effetto lucido che ripeto a qualcuno può piacere ad altri no quindi è un po' soggettiva come stampa fotografica come vedete abbiamo tutte le descrizioni del supporto della stampa una carta di 235 grammi su metro quadrato quindi abbastanza consistente anche al tatto si nota questa qualità della carta che si adatta benissimo come potete vedere a stampe in notturna o comunque a stampe dove vogliamo esaltare i colori presenti all'interno della nostra fotografia quindi vi consiglio eventualmente di sfruttare la possibilità di fare dei test print per andare a stampare le vostre fotografie passiamo invece alla carta honey mule la carta per la stampa fine art come potete vedere una carta di qualità eccellente ve lo posso garantire e qui il prezzo diciamo si inizia a far sentire costicchia un po' di più la stampa fine art come sempre insomma lo sappiamo una carta fotografica cotone che quindi ci consente di fare delle stampe completamente diverse rispetto ai classici supporti Fujifilm o Kodak che abbiamo visto in precedenza un supporto fotografico che può essere di 4 tipologie diverse come vi avevo anticipato in precedenza dopo lo vedremo una carta che può arrivare fino a 310 grammi su metro quadrato quindi di consistenza assai maggiore rispetto alla carta Kodak che abbiamo visto in precedenza per quanto riguarda questa tipologia di stampa abbiamo tutta una pagina che descrive il prodotto descrive il processo di stampa quindi potete veramente divertirvi a leggere come il laboratorio di stampa procede a stampare le vostre foto a quindi a creare le vostre fotografie andiamo a vedere poi la carta honey mule che come vi dicevo ha 4 tipologie diverse di supporto quindi una honey mule che può essere una foto rag quella che ho stampato per voi una torchon, una fine art pearl e una william tarner vi ripeto come vi ho detto in precedenza questi 4 supporti hanno delle caratteristiche diverse a partire per esempio dal peso la william tarner è una carta da 310 grammi su metro quadrato quindi ha una sensazione diversa un assorbimento del colore diverso e quindi anche una visualizzazione della foto completamente diversa rispetto per esempio a una foto rag che è assai più gentile più liscia tra virgolette anche se presenta un po' di texture e sicuramente la foto rag è diversa dalla fine art pearl che ha una diciamo tipologia di assorbimento del colore e anche di riflesso della luce diversa infatti è una carta che dovrebbe avere almeno secondo il produttore sicuramente avrà un effetto perla quindi un misto tra opaco e lucido comunque un lucido non proprio lucido se vogliamo diciamo dirlo in altro modo ed è una carta che secondo me si adatta benissimo ai bianchi e neri d'effetto soprattutto nelle ritrattistiche quindi ritratti di anziani magari ritratti un po' più drammatici quindi nella ritrattistica sicuramente ha un peso importante questa tipologia di carta abbiamo poi la carta torcio una carta di 285 grammi su metro quadro che ci permette di ottenere delle stampe con un effetto 3D come ci dice il nostro produttore chiudendo poi con la William Turner che è una carta abbastanza pesante 310 grammi su metro quadro la più pesante una carta che ci consente di sfruttare l'enorme texture la vedete anche nell'immagine piccola che quindi ci permette anche di tirar fuori del dettaglio maggiore dalle nostre fotografie abbiamo visto le foto abbiamo visto il sito web ora rimane soltanto da spiegare come partecipare al giveaway è semplicissimo se volete partecipare basta commentare sotto al video con un'opinione sulle stampe che vi ho fatto vedere un'opinione sul sito web se avete già stampato con White Wall scrivetelo qui sotto oppure scrivete un commento inerente ovviamente al canale alla fotografia successivamente nei prossimi giorni ovviamente pubblicizzerò tutto al massimo sulla mia pagina Facebook Emanuele Brilli Photoshop & Photography anche sul canale Telegram e così via l'evento live quindi farò una live su YouTube probabilmente nel fine settimana vedrò un po' come gestire il tutto e in questa live andrò a estrarre il vincitore che poi personalmente cercherò di contattare per farmi dare gli indirizzi di spedizione e quindi spedire la fotografia semplicissimo no? quindi commentate il video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi aspetto alla prossima live per decretare il vincitore e ovviamente ai prossimi video ciao